Ah, bravo! La draga ha preso la macchina, hanno fatto un incidente? Sì, hanno fatto un incidente... E si sono fatti male, signori? Male! Molto male? Sì! È venuta l'ambulanza? È venuta l'ambulanza? E' alzato, è alzato, è vero? E' già, è alzata la draga. Quella si è tolta la ruota. Sì, la porta. Che è lì, che è lì. Ma il signore si è fatto molto male. Come faceva l'ambulanza? È una fuoristrada quella? C'è una... Come si dice fuoristrada, ripetino un po'? Ah, ecco. Si dice così. Si dice così? Ecco, quello è il libro. Ah, cosa c'è scritto su un libro? Leggi, leggi un po' tu il libro. Leggi un po' tu. Sei capace di leggere il libro? E' un libro. E' un libro per te. Tieni. Per me? Sì, per me. Tieni. Grazie. Tieni. Adesso ne prendi uno per te, ho capito. E' un libro per te, ho capito. Guarda, vedo, vedo, vedo. Papà, papà, papà. Cosa c'è? Papà, guardate la moto. E' bella quella moto. Di che colore è? Nanna. Come? Nanna. Colore nanna. E' bianca? La moto è bianca? Ah. Te la ho la cacca. Eh, buttala via. Buttala via, è la cacca del naso. No, 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 buttala via, buttala via. No, 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 no. E' tutto per me. E' tutto per me. No, ecco, no. Ok? Ok. Sì. Dimmi. Betto. E' bella. E' bella. No, 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 no. No. E vedono le mani, i pizzi. Ecco bene, bucate, bucate, bucate. Che bella musica c'è. E tutte le macchinine chi le ha messe tutte così? Io. Ah, le hai messe tu? Sì. Bravo. Le hai messe... Tutte belle. Tutte belle. Tutte belle. Ti ha aiutato papà a metterle così? No, papà, io. Eh, lo so. Da solo, vero? Da solo? Metti la mano davanti alla bocca. Io. Tutto da solo hai fatto? Papà ha aiutato? No. Vediamo. Guarda come sono tutte belle in fila. Vediamo. Vediamo. Uno, io. Bene. Tutto bene. No, lei. No, lei. Grazie a tutti.